le intelligenze dell'intelligence questa sera la sostituisco la mia collega valentina porta che era indisposta questi sono giorni come sapete di influenza raffreddori ed intorni quindi molto volentieri ho preso il testimone da valentina perché insomma il tema lo merita e questa sera a raccontarci i temi del volume di Limes sono due analisti di Limes Federico Petroni che conoscete per precedenti presentazioni è già stato qui tante volte non le ho contate ma un buon numero anche tu non le conti più e Giuseppe De Ruvo che è anche gli analista di Limes insomma ci racconteranno i temi i temi di questo numero partirei da Federico Petroni a cui chiedo appunto insomma se ci vuoi spiegare il titolo quindi partire da questo piccolo calemburro che troviamo che troviamo in copertina e poi entriamo un po' dentro il concetto di intelligenze che cosa manca all'intelligenza artificiale per essere un fattore decisivo nell'intelligence e nell'intelligenza strategica si diceva prima con Giuseppe quindi a te partire intanto dal titolo aiutaci a capirlo meglio. Buonasera a tutti grazie Lorenzo mi fa molto piacere ritrovarti su questo palco grazie come sempre al circolo della ospitalità in questo posto in questa città bellissima grazie a voi di essere qui. Le intelligenze dell'intelligence di che cosa parliamo in questo numero? Parliamo di una tendenza che si sta facendo strada dentro i servizi di intelligence che svolgono fra le tante cose illegali che fanno una funzione però fondamentale per i nostri paesi che è quella di mantenere gli occhi aperti sul mondo per prevenire minacce alla salute pubblica poi per farlo fanno anche un sacco di cose illegali ma è il loro mestiere farlo. Ora questa secondo noi questa funzione di anticipare le minacce è messa sotto scacco è messa in dubbio in questione da una corsa che sta avvenendo a livello mondiale la corsa agli armamenti tecnologici la corsa all'intelligenza artificiale. Tutti i grandi servizi di intelligence al mondo ma anche i meno grandi stanno letteralmente correndo ad armarsi per avere per sviluppare le tecnologie di intelligenza artificiale migliori per accumulare ancora più dati nella illusione nella speranza di attraverso queste enorme molle di dati di riuscire a prevedere il futuro cioè ad anticipare le minacce alla salute pubblica e a vincere la guerra tecnologica la corsa tecnologica che divide le due grandi potenze del mondo gli Stati Uniti e la Cina. Pochi mesi fa il capo della CIA William Burns un diplomatico di carriera una delle persone più intelligenti nel governo americano ha detto pubblicamente che sta avvenendo una rivoluzione tecnologica grazie all'applicazione dell'intelligenza artificiale e che la CIA e tutta la comunità di intelligenza americana sta letteralmente correndo per restare al passo di questa di questa rivoluzione. Una frase che presa sul serio difficilmente propaganda ma presa sul serio è già rivoluzionario di sé commentavamo anche prima che gli Stati Uniti storicamente a livello di governo sono la fucina dell'innovazione tutto è venuto fuori dal dai finanziamenti del governo degli Stati Uniti oggi non è più così oggi le principali innovazioni vengono dal settore privato e i settori pubblici i poteri pubblici devono rincorrerli per restare al passo del mercato e dei competitor internazionali. Tutto questo perché è un problema? Lasciamo ad altri sviluppare ragionamenti su le minacce insite nell'intelligenza artificiale minacce opportunità rischi e quant'altro. La cosa che la peculiarità del nostro lavoro all'IMES con questo numero è avere riflettuto su qualcosa a cui nessuno ha prestato attenzione finora. Cioè se i servizi di intelligence si affidano così tanto all'intelligenza artificiale non stanno facendo altro che moltiplicare una tendenza storica soprattutto degli occidentali che è quella di accumulare dati a non finire per togliere tempo invece alla riflessione analitica umana più inventiva che è propria del servizio di intelligenza che dovrebbe essere chiamato proprio a fare delle riflessioni qualitative sui dati a disposizione. Dicevo che è una tendenza tipica occidentale in particolare statunitense ma ne parlerò dopo però la minaccia strategica che intravediamo è che questa corsa agli armamenti dell'intelligenza artificiale dove per arma si intende non qualcosa che spara ma qualcosa che serve ad accumulare dati e quindi a prevedere ad antevedere ecco questa corsa distrae distoglie i servizi di intelligence da la loro missione principale che è proprio quella di riuscire a capire che cosa vuole fare il nemico e per questo insomma dopo aver aperto il campo il gioco cedo di nuovo la parola a Lorenzo. Grazie grazie Federico e partirei appunto con Giuseppe De Ruvo da in realtà dal contenuto del suo saggio in questo numero di Limes che è dedicato diciamo prevalentemente alla prima metà del titolo cioè quindi al concetto di intelligenza più che di intelligence intesa come servizi segreti nella traduzione più giornalistica è diffusa tu ci dici insomma ci racconti che l'intelligenza è diciamo umana delle caratteristiche tutte sue che non è necessario non è necessariamente la maggiore quantità di dati a disposizione a rendere più più come posso dire se 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 rendo bene il tuo pensiero a rendere più 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 corretta più accurata all'analisi all'analisi dei fatti ci dici che conta molto il contesto citi anche Kissinger e la sua tesi di laurea no nel sostenere questo punto ci dici in che cosa l'intelligence ha bisogno di un certo tipo di intelligenza e che intelligenza è l'intelligenza questa non è intelligenza artificiale ma insomma ah quindi era la mia intelligenza umana che non l'aveva acceso perfetto hai dato alto nell'articolo benissimo intanto vi ringrazio è la prima volta in realtà che sono a Torino in vita mia ed è un piacere quindi essere essere qui e appunto come si è detto il mio intervento verterà soprattutto sul concetto l'intelligenza in questa prima fase poi al secondo giro invece cercherò di delineare di più il rapporto che c'è tra intelligenza umana intelligenza artificiale soprattutto per quanto riguarda poi la prassi geopolitica che non essendo una scienza ma essendo una pratica una prassi un qualcosa che si fa chiaramente entra in relazione con varie forme del sapere allora io in questa prima slide ho segnato tre domande che appunto cercheranno di guidare il ragionamento che proverò a fare con voi la prima domanda è chiederci quale che forma di intelligenza è all'opera nelle pratiche di intelligenza cioè nelle pratiche di intelligence perché quelle di intelligence non sono funzioni sono pratiche sono operazioni concrete che delle persone in carne e ossa tendenzialmente fanno le pratiche sono sempre un qualcosa che ha le sue norme le sue regole quali sono le regole delle pratiche di intelligence come sono nate quindi ma a partire da queste pratiche per come si sono delineate storicamente possiamo dire che queste siano effettivamente intelligenti o meglio possiamo dire che l'intelligence per come si è strutturata per come si struttura oggi rappresenta l'intelligenza to cure e poi la terza domanda che appunto quella che però tratteremo dopo è che se forse in realtà non ci sono alcune determinazioni del concetto di intelligenza che sono state ignorate messe tra parentesi dall'interpretazione comune del concetto di intelligenza che invece potrebbero essere utili per affinare ancora di più la pratica di intelligence cioè qui il punto non è dire che l'intelligenza artificiale brutta e cattiva ma che forse semplicemente non è tutto e non possiamo affidarci esclusivamente a quella per quella determinata pratica che è l'intelligence allora per rispondere innanzitutto alla prima e alla seconda domanda noi dobbiamo un attimo capire quando è che noi abbiamo cominciato a chiamare i servizi segreti intelligence perché prima non si chiamavano intelligence si chiamavano servizi segreti nelle varie lingue indoeuropee questo è abbastanza normale classico perché perché in nessuna lingua fondamentalmente occidentale ovviamente si è mai utilizzato come termine per definire la più alta facoltà del conoscere la parola intelligenza certo c'è in inglese c'è intellect c'è intelligence in inglese per esempio è un calco del francese medievale per dire ma esiste in tedesco c'è l'intellect esistono queste parole ma non designano mai la facoltà suprema del conoscere se ci pensate in italiano l'intelligenza è un qualcosa di subordinato non lo so alla ragione o al pensiero in tedesco anche per dire intelletto da canti in poi si dice fershtand non si dice intellect si dice fershtand o addirittura ragione fernuf proprio anche vedete etimologicamente è completamente diverso francese come l'italiano e si potrebbe andare avanti all'infinito cosa succede ecco le cose cambiano e non è un caso come vedremo poi con fede che la rivoluzione il cambiamento appunto della parola avviene in america perché nel 1882 nasce questa agenzia che è l'office of naval intelligence che appunto è la prima agenzia di raccolta e analisi dati che mette nel suo nome intelligence e non è un caso che sia un'agenzia nata nel 1882 perché è la seconda metà dell'ottocento è quella fase storica in cui l'america si pensava fondamentalmente come un enorme cantiere ci sono vari testi per esempio un testo importante di noble si chiama si chiama progettare l'america cioè l'america si pensava come un enorme cantiere popolato da ingegneri che dovevano realizzare appunto positivisticamente questo sogno americano erano gli anni del positivismo come ho accennato erano gli anni in cui qualche anno prima in realtà ma un pensatore francese che si chiama august comte aveva nel suo corso di sociologia generale coniato questa espressione che appunto è la intelligence scientific comte con questa espressione intende fondamentalmente una conoscenza che doveva portare le scienze umane allo stesso livello delle scienze naturali l'idea era quella di costruire una fisica sociale in cui i dati potevano essere interpretati in maniera fondamentalmente univoca e che avrebbe permesso un'organizzazione completamente razionale della società questo è un problema che chiaramente nasce in un determinato contesto europeo è una reazione all'idealismo tedesco è un cioè tutta quanta una storia chiaramente dietro ma il punto fondamentale è che esattamente in quel momento e con comte nessun altro pensatore di quell'epoca lì utilizza per descrivere la facoltà somma del conoscere il termine intelligenza se voi pensate che erano gli anni in cui si discuteva fondamentalmente dibattito filosofico intellettuale dell'epoca era sul rapporto si parlava di di cultur si parlava di fernunft si parlava di dialettiche che liana di materialismo storico qui invece c'è proprio l'intelligenza questo ha effetti appunto in america viene immediatamente recuperato questo concetto e la prima agenzia di intelligence nasce in questi anni qua dunque per rispondere alla prima domanda che intelligenza è all'opera nelle pratiche di intelligence fondamentalmente un'intelligenza di tipo positivisti l'idea è che accumulando un numero sufficientemente grande di fatti e trovando al loro interno delle regolarità sia possibile dar conto in maniera estremamente razionale del decorso dei fenomeni il fenomeno la singola cosa viene spiegata dopo che io ho raccolto quanti più dati possibili su di essa a quel punto posso prevederne il decorso facendo un enorme salto temporale ma credo che il concetto sia abbastanza intuitivo da capire è del tutto evidente perché ci sia oggi la tentazione di affidare le operazioni e le pratiche di intelligence alle intelligenze artificiali perché le intelligenze artificiali nonostante siano evidentemente drammaticamente più potenti rispetto all'intelligenza scientifica di cui parlava comte il principio ordinatore è esattamente lo stesso tu alleni attraverso la raccolta e la creazione di un dataset enorme un algoritmo un algoritmo magari di machine learning che poi procede in maniera automatica e questo è in grado di trovare la soluzione più razionale possibile e risolvere fondamentalmente qualsiasi equazione questo chiaramente nella vulgata ci tengo a precisarlo gli ingegneri che lavorano a questi algoritmi che lavorano a questi meccanismi sono molto più cauti sono perfettamente consapevoli che ci sono dei limiti sono perfettamente consapevoli che le previsioni avvengono su base probabilistica ma fondamentalmente l'interpretazione corrente soprattutto in america come poi spiegherà federico è che un enorme raccolta di fatti permette di avere uno sguardo più ampio sul mondo e quindi di riuscire a prevedere il decorso dei fenomeni e quindi appunto il passaggio da questo e quindi da una concezione dell'informazione secondo cui l'informazione non è altro che un dato dotato di significato questa diciamo la definizione standard che trovate su qualsiasi manuale che cos'è informazione che come vedete una definizione statica no l'informazione è un dato dotato di significato anche qui bisognerebbe ragionare sulla parola informazione vuol dire qualcosa che è informato cioè che si forma quindi non dovrebbe essere un qualcosa di statico eppure viene intesa in questa maniera cioè l'idea è che l'informazione non è altro che un dato dotato di significato dunque se io riesco a raccoglierne quanti più possibili a farli interagire attraverso gli algoritmi migliori possibili non possono avere una conoscenza assolutamente razionale dell'essente di quello che succede il che non vuol dire che queste pratiche non funzionino in determinati contesti cioè qui non si tratta di dire non funziona l'intelligenza artificiale è una truffa vi stanno vendendo fumo non è così è del tutto evidente che funzioni il punto la domanda che secondo me in questo volume ci poniamo da una enorme quantità di punti di vista è capire se ci basta cioè per le pratiche di intelligenza ci basta questo tipo di intelligenza calcolante basata su un'iperrazionalizzazione che poi lasciamo perdere che può produrre risultati totalmente irrazionali non è questo il punto ma l'idea di avere a che fare soltanto con dati dotati di significati chiari cioè l'oggetto della geopolitica è sempre un dato dotato di significato io penso di no e quindi passo diciamo alla seconda domanda che era quella ma che che tipo di intelligenza stiamo forse trascurando ecco per rispondere faccio un passo indietro molto più insomma ampio di quello che ho fatto prima e penso che bisogna di sezionare la parola intelligenza mettiamo un secondo tra parentesi la preposizione che è di battuta quale sia di intelligenza ma ci torno nella seconda parte e andiamo sul sulla radice sul centro che è logos intelligence ha questa paroletta terribile come la definiva Emanuele Severino ma una parola terribile logos perché io ormai sono dell'idea che sia un intraducibile tradurlo discorso è folle tradurlo ragione tradurlo parola tradurlo relazione già meglio ma insomma ci torniamo poi sulla relazione ma insomma logos è la parola fondativa della cultura occidentale è l'inizio del Vangelo di Giovanni logos sarx geneto verbo si fa carne ed è l'inizio del poema sulla natura che poi ci è arrivato in frammenti insomma di Eraclito è alla base della nostra cultura ma questo logos che appunto non sappiamo come tradurre però ci fonda non potremmo esistere senza questa paroletta terribile ma alla fine è pura razionalità questo logos cioè è pensiero calcolante io sinceramente do una lettura che è assolutamente contestabile penso di no cioè se noi andiamo alle origini del pensiero occidentale noi troviamo questi due signori qua uno quello a sinistra non so se ve lo vedete a sinistra o a destra comunque uno è Parmenide e l'altro è Aristotele Aristotele è quello che si vede un po' peggio perché l'immagine non era un granché allora Parmenide considerato il fondatore della razionalità e del logos occidentale inizia il suo poema intorno alla natura appunto con questo pais questo ragazzo che va alla ricerca della ben rotonda verità la conoscenza assoluta no? l'essere che è e non può non essere benissimo razionalismo totale alle basi del razionalismo occidentale sì però se uno andasse a leggere il testo si renderebbe conto che questo questo pais non si muove così per un freddo interesse intellettuale verso la ben rotonda verità si muove spinto dai cavalli innanzitutto ma soprattutto da una paroletta un'altra parola terribile che è il tiumos che in greco vuol dire desiderio cioè il pais Parmenideo è spinto verso la verità la dea Leteia che è una donna non a caso quasi eroticamente da un desiderio di conoscenza desiderio totalmente irrazionale uno può spiegare perfettamente razionalmente la conoscenza l'essere è e non può non essere perfetto ma il motivo per cui io sono spinto a quella conoscenza non posso saperlo razionalmente per i supposti irrazionali della razionalità Aristotele famosissimo incipit della metafisica tutti gli uomini tendono per natura fisei al sapere questo è un passo quel per natura che viene interpretato già razionalmente cioè quasi biologicamente noi siamo fatti in un certo modo abbiamo un certo cervello che tendiamo quindi alla razionalità al sapere e non è proprio così physis in greco che vuol dire natura deriva dal verbo fio ma fio vuol dire generare vuol dire essere mancante vuol dire divenire fondamentalmente cioè essere mossi per natura verso la conoscenza significa essere mossi fondamentalmente da una mancanza da una tensione verso ciò che non è non da un impulso di razionalità come se fosse un qualcosa che abbiamo sin dalla nascita e quindi ecco questo per dire che quella paroletta terribile che è al centro dell'intelligenza è tutto tranne che è un qualcosa di esclusivamente logico computabile è un sentimento ha una dimensione emotiva che non è trascurabile e questo lo vediamo secondo me nella maniera più chiara nell'opera probabilmente della storia del pensiero occidentale che più di tutte ha avuto la maledetta secondo me sorte di essere considerata un assalto al cielo del sapere assoluto che è la fenomenologia dello spirito di Hegel parlerò pure dopo di Hegel perché insomma sono un po' fissato ma è un mio limite tutto quella cosa meravigliosa quasi quel gioco dell'oca che ci fanno studiare al liceo secondo cui si passa sempre a un momento più razionale di quello precedente perché tutto ciò che è questo è lo spirito di Hegel perché tutto ciò che è razionale e reale ecco tutto quel processo meraviglioso che poi potremmo discutere se è veramente sapere assoluto chiuso finito ma non è questo l'occasione tutto quel processo non potrebbe esistere questo aumento costante della razionalità se a ogni volta che la figura compie una figura della fenomenologia dello spirito compie alla sua massima potenza questa dice chiaramente Hegel non venisse presa dallo Zweifel il dubbio un dubbio esistenziale un'angoscia incapacità di dar conto di quello stato di cose con quegli strumenti questo genera una tensione emotiva che poi porta al superamento di quella figura ma l'arrivo al sapere assoluto a me se non concesso che ci sia non potrebbe esistere senza questa dimensione ancora una volta emotiva del sapere e del logos e poi finisco diciamo questo primo intervento dalla radice leg leg di logos da cui deriva peraltro tutta una serie di termini cioè anche leg che può essere dire ma è anche raccogliere quindi insomma questo tentativo di unire di mettere appunto in relazione come dicevo prima leg incolligere mettere insieme ecco da quella radice lì deriva anche un'altra parola che è questa meno nota non è una paroletta Severino non l'avrebbe chiamato una paroletta terribile ma è questa leggo che significa prendersi cura cioè in questa dinamica del logos della radice semantica del logos c'è anche l'idea che il rapporto con le cose con le cose che si conoscono ovviamente è un rapporto di cura ma non è un caso che l'editoriale di quel numero di cui parlavamo prima di una decina di anni fa di Limes che si intitolava che servono i servizi l'editoriale di quel numero nel declinare diciamo così una figura quasi da fenomenologia dello spirito dell'analista di intelligence si chiamava Homo Curiosus perché appunto all'interno delle pratiche di intelligence c'è anche questa dimensione del prendersi cura di avvicinarsi a ciò che io voglio conoscere in maniera totalmente irrazionale avvicinarmi cercare di portarlo vicino a me letteralmente di sedurlo ed è interessante il fatto che in italiano noi non abbiamo il significato positivo di alego cioè di prenderci cura non abbiamo una parola che deriva da quella radice che vuol dire prenderci cura però abbiamo il significato negativo negligente una persona negligente è una che non si prende cura non fa con cura quello che dovrebbe fare ecco da questo punto di vista l'intelligenza artificiale nella misura in cui trascura questa dimensione del logos è letteralmente negligente mancando di quella curiosità necessaria per comprendere gli oggetti rischia di produrre previsioni che possono essere accurate che possono essere precise ma che semplicemente sono vuote cioè non hanno a che fare con la concreta situazione nella quale si si trova a lavorare o con il concreto oggetto che dovrebbe essere oggetto di analisi ma di questo penso che analizzando il caso americano ne parlerà Federico caso caso americano che diciamo oggetto del saggio di Federico Petroni l'introvabile intelligenza strategica dell'America questo questo è il titolo nel quale insomma ci racconti di tu lo definisci tramonto della supremazia americana e ti concentri in particolare mi sembra di capire sulla diciamo mancanza di un'intelligenza strategica e anche una mancanza di comprensione del punto di vista dell'altro torni in diversi punti su questo concetto quasi di empatia ecco ci racconti perché quello che è il caso di studio americano si parla con quello che abbiamo sentito fin qui cioè in che modo e in che senso all'intelligence americana manca forse l'intelligenza che è stata descritta fin qui per riassumere l'intervento di giuseppe intelligenza non è solo dato ma è anche amore amore anche per il nemico ama il tuo nemico dice il vangelo di matteo è dovrebbe essere il primo comandamento dell'analista di intelligence perché il nemico lo batti solo se lo capisci davvero fino in fondo umberto galimberti dice che l'amore è penetrazione nella follia altrui anche la geopolitica anche l'intelligenza strategica sono gesti di penetrazione nella follia altrui ecco tutto questo l'america ce l'ha la risposta è se ce l'ha mai avuto non ce l'ha oggi ed è l'argomento del mio saggio nel saggio cerco di fare la genealogia di questa negligenza strategica degli Stati Uniti che ha portato l'america a trascurare tutto questo cioè a trascurare lo studio il prendersi cura l'attenzione al nemico a capire in profondità il nemico una società come quella americana è per genetica e non ho qui il tempo di argomentare abbastanza restia a incuriosirsi dell'altro delle altre culture e anche dei nemici per difetto e per deviazione quasi professionale e abitudine degli stati unitensi costruirsi il punto di vista altrui a partire dalle proprie categorie dalle proprie rappresentazioni ora questo che è un dato congenito americano è stato seppellito per decenni dalla strapotenza dalla supremazia militare anzitutto poi anche finanziaria economica metteteci qualunque cosa è stata per decenni e decenni l'america una potenza nettamente superiore alle altre tali da anche vincere senza bisogno di combattere Sun Tzu ovviamente l'unione sovietica per un certo periodo è stata ha messo in questione questa strapotenza americana e proprio questo ha indotto gli stati unitensi a sviluppare quell'amore quell'intelligenza per il nemico tale da tenerti ancorato sulla sulla preda e sulla posta in gioco infatti gli americani e i russi si capiscono ancora abbastanza bene tuttavia la fine della guerra fredda ha condotto letteralmente ad atrofizzare questa capacità di prendersi cura della propria strategia degli Stati Uniti in che senso perché per 30 anni è stata data per scontata che la supremazia militare anzitutto degli Stati Uniti avrebbe dissuaso gli altri avversari dallo sfidarli e se anche ci fosse stata una sfida comunque loro avrebbero prevalso dove nasce questa questa presunzione di superiorità che era nei fatti nasce negli anni 90 quando gli Stati Uniti sconfiggono il quarto esercito della terra quello dell'Iraq di Saddam Hussein in una maniera che nemmeno loro si aspettavano anticipavano decine di migliaia di morti nei loro ranghi mesi di combattimento invece spazzano via letteralmente l'esercito di Saddam non tanto per negligenza del nemico quanto perché applicano per la prima volta sul campo le tecnologie di informazione che avevano sviluppato per compensare i sovietici durante la guerra fredda negli anni 70 cominciano ad applicare internet satelliti alla guerra a metterli operativamente in effetto appunto per compensare il vantaggio quantitativo sovietico in Europa la prima applicazione sul campo è nella guerra del golfo unita questa stragrande vittoria alla sparizione di qualunque altro contendente con gli Stati Uniti l'Unione Sovietica che è crollata proprio in quegli anni immediatamente la classe politica si ubriaca di questa di questa strapotenza sempre in quegli anni viene coniata una delle frasi più famose tra chi si occupa di geopolitica quando la signora segretaria di Stato degli Stati Uniti Madeleine Albright chiede al capo di Stato Maggiore degli Stati Uniti che si oppone alla sua decisione di bombardare la Bosnia e gli dice ma a che serve questa grandissima potenza militare di cui tanto ci parlate se noi non la possiamo usare ecco che si forma un'ideologia in America l'ideologia che l'americanizzazione del mondo desiderata dagli Stati Uniti per pacificare il mondo e renderlo uguale a se stesso sia possibile non solo perché la condizione storica lo permette non ci sono più rivali ma anche perché la strapotenza militare favorirà quella creazione di un ombrello militare che garantirà la estensione della democrazia e del libero mercato nel resto del mondo ciò che conduce il mondo all'America dentro l'America apro il saggio citando proprio una frase di William Burns oggi capo della CIA che nel 1993 dice esattamente questa cosa da capo di uno dei più importanti uffici di intelligenza di pianificazione strategica degli Stati Uniti quindi vedete che questa ideologia esiste perché non è una strategia perché è un'ideologia e qui si arriva al punto perché in senso marxiano l'ideologia è ciò che mette i piedi in testa al mondo cioè ciò che ribalta la realtà fino a negare la realtà stessa parte come strategia cioè dobbiamo americanizzare il mondo e creare un'egemonia benigna nella vera e sentita convinzione che il mondo desidererà ciò che vogliamo noi vedete il costruirsi il punto di vista altrui a partire dalle tue categorie ecco parte come una strategia ma quando si scontra con la realtà che non ci sta si tramuta in ideologia cioè pretende di rimanere vera tutto questo lo si vede chiaramente in Iraq nel 2003 ma non basta a sconfiggere questa strategia e da qui diventa un'ideologia appunto un'ideologia che porta a trascurare le fonti della potenza americana porta a trascurare anche la buona conduzione di una strategia porta a dare cose come la guerra la deterrenza la dissuasione per scontate è qui che si arriva alla negligenza strategica ed è qui che si arriva alla critica fondamentale che si fa agli Stati Uniti degli ultimi anni che è vero sono stati tremendamente potenti e rimarranno anche i più potenti del mondo ma la loro strapotenza non basta più a impedire guerre perché nel frattempo qualcun altro non è stato negligente anzi ha studiato il modo con cui gli americani vanno alla guerra e fanno la guerra e ha sviluppato quelle tecnologie militari necessarie non a superarli le forze armate americane resteranno le prime al mondo ma a neutralizzare quei vantaggi che un tempo erano assoluti in senso letterale cioè sciolti da sciolti da il rivale tutto questo ha avuto però un altro effetto che ci riporta a quello che dicevamo prima ha atrofizzato il pensiero strategico americano cioè ha atrofizzato la capacità di intanto di creare una strategia realistica basata sui fatti la prova provata è l'Ucraina gli Stati Uniti si sono realmente raccontati di poter vincere in Ucraina perché hanno ignorato completamente se avevano i mezzi o no per aiutare gli ucraini a farlo poi è chiaro che non avrebbero mai voluto spendere sangue pur di far vincere gli ucraini e questo siamo tutti d'accordo però si sono letteralmente convinti che la vittoria fosse quantomeno nella capacità dell'Ucraina grazie alle tecnologie militari poi si è scoperto che le industrie belliche americane non sono in grado di produrre gli armamenti necessari agli ucraini per vincere non sono nemmeno in grado di essere portate a quel livello di produzione in pochi anni le industrie belliche americane arriveranno a produrre la quantità che serve agli ucraini per combattere i russi di munizioni di artiglieria pesante nel 2028 nel 2028 Zelensky non sapremo neanche chi è purtroppo non hanno cinque anni gli ucraini per aspettare di avere abbastanza armi quindi hanno costruito delle strategie delle tattiche degli approcci lontani dai dati di realtà ed è questo che ci porta a dire che gli Stati Uniti sono in crisi perché hanno una popolazione che non li segue non legittima più in maniera unanime i progetti di politica estera espansivi non hanno i mezzi per fare la guerra vera finirebbero i missili antinave in una guerra con la Cina in una settimana non hanno più quella preponderante potenza bellica anche sul fronte nucleare la corsa agli armamenti della Cina sta arrivando mi sta portando a mettere in discussione tutto quello che sapevano sulla deterrenza nucleare che era basata su teorie A2 USA URS adesso che ce n'è una terza che arriverà alla parità atomica di testate schierate non di testate assolute ma quelle che contano sono le schierate ora che sono a tre letteralmente non sanno che fare non ve lo dico io o meglio ve lo dico io riferendovi una conversazione privata che ho avuto quest'estate in Nebraska mi hanno ospitato in una base nucleare statunitense in cui ho avuto un dialogo con una stratega nucleare che mi spiegava proprio la rivoluzione della dissuasione nucleare in cui loro letteralmente non sanno che fare hanno detto concediamoglielo sono in un learning process processo di apprendimento capite bene che cosa vuol dire nello spiegarmi tutte queste cose questa signora è giunta al punto che mi ha fatto scrivere questo articolo e che ci ha fatto anche scrivere questo numero cioè ha detto non siamo più preponderanti dal punto di vista militare la deterrenza nucleare sta cambiando dovremmo sviluppare la nostra capacità di capire il nemico ciò in cui noi americani facciamo un lavoro terribile ecco se lo dicono persino loro io credo che dobbiamo prendere molto sul serio tutto questo perché sta nascendo una nuova America una nuova America che non sarà non sarà impotente non crollerà improvvisamente da un momento all'altro ma cambierà il modo di esistere il modo di esistere in cui cambierà conta soprattutto per noi abbiamo ci siamo affidati a questo ombrello americano e da domani probabilmente anche già da oggi dobbiamo fare ne dobbiamo fare molto a meno non completamente senza Federico un tema che abbiamo toccato prima appunto nella preparazione in questa chiacchierata quando dici che gli Stati Uniti fanno fatica a capire le intenzioni degli altri una cosa che ti ho detto prima quindi ti do la possibilità di replicare la nostra chiacchierata di prima sull'Ucraina era l'intelligence americana a dire guardate che questi attaccano nell'ironia generale di giornali osservatori governi persino Zelensky che diceva fanno troppo allarmismo invece diciamo su quella che potremmo definire come una partita molto importante erano stati loro ad azzeccare in un certo senso la lettura come mai e perché questa cosa in realtà non smentisce quello che ci hai detto direi di sì così chiudiamo su questo e poi andiamo da Giuseppe allora intanto come diceva Giuseppe prima questa è un'informazione che è venuta da fonte umana e non da un dato e quindi già ci pone nel campo dell'intelligence umana ma poi è molto possibile che questa informazione sia stata comunicata direttamente dai russi nel luglio 2021 Biden e Putin si vedono perché c'è già stata una mobilitazione militare ai confini con l'Ucraina e quindi è molto possibile che in quel momento Putin abbia anche detto io entro davvero se non mi date quello che chiedo e comunque qui si parla di Russia cioè si parla di un paese con cui gli Stati Uniti hanno una certa intelligenza un ex capo della CIA e del Pentagono Robert Gates uno dei maggiori patrioti d'America anche se un po' troppo attaccato all'impero che è parte del problema trasferisce questo discorso delle intenzioni sulla Cina e dice mentre sulla Russia vagamente ci capiamo con la Cina della Cina noi conosciamo solo le sue capacità penetrare le sue intenzioni è complicatissimo sia perché sono bravi a proteggersi aggiungo io sia perché proprio la la dottrina cinese si basa sull'offuscamento è la loro deterrenza si basa sul non far capire all'avversario che cosa stai facendo mentre la nostra deterrenza è il contrario dirgli esattamente che cosa faremo e questo incrementa il rischio di incomprensioni ma poi anche per l'ignoranza la profonda ignoranza che hanno gli apparati americani della della Cina infatti concludo il mio saggio proprio sulle con le domande che a cui l'intelligence americana non riesce a darsi risposta che invece dovrebbero essere il compito dell'intelligence di un di un paese specialmente di una grande potenza perfetto chiudiamo il giro con Giuseppe e poi ci sarà spazio per qualche domanda ovviamente se ne avete cosa ci ci racconti Giuseppe abbiamo sentito insomma un'applicazione concreta della tua riflessione su intelligenza e intelligence e poi allora sì quello che ha detto Fede secondo me rende chiarissimo e la palissiano quello che ho cercato di dire io in termini un po' più fumosi prima è del tutto evidente che c'è un problema all'interno della definizione di intelligenza io prima ho cercato appunto Logos Alego eccetera però alla fine che cos'è questa intelligenza e sempre noi potremmo per esempio il caso del conflitto ucraino Federico ha detto che c'è effettivamente una conoscenza tra russi e americani ancora si capiscono e riescono a capirsi perché appunto la minaccia sovietica ha obbligato gli americani durante la guerra fredda a guardare dentro questo è il termine chiave direi guardare dentro i russi se voi leggete ad esempio il long telegram di Kennan beh lì a Kennan era stata chiesta una interpretazione più che un'interpretazione direi un resoconto sullo stato dell'unione sovietica dopo la seconda guerra mondiale beh Kennan dice signori io non vi faccio resoconto di questa cosa e si mette a parlare del rapporto tra spirito sovietico e spirito e nazionalismo russo tra marxismo perché si pone la stessa domanda di Gramsci si era posto 30 anni prima perché in unione sovietica c'è il comunismo com'è possibile che in un paese in cui non è successo la rivoluzione industriale eccetera eccetera c'è esattamente quella forma di governo senza che c'era una borghesia eccetera Kennan ha una risposta interessantissima dice beh perché il marxismo è fondamentalmente un'ideologia basata sul conflitto i russi vivono di senso di accerchiamento sono terrorizzati al conflitto e comunque sono terrorizzati allo stesso tempo lo portano avanti quindi lasciate perdere le condizioni materiali il marxismo ha trovato un humus particolarmente fertile in Russia ecco questo significa utilizzare un particolare tipo di intelligenza che è quella appunto basata sull'intus leggere cioè sul guardare sul leggere dentro e tra le righe del nemico però intus leggere cioè intelligenza potrebbe derivare anche da interleggere che è la capacità di mettere relazione di cui vi parlavo prima la capacità di comprendere i rapporti tra le parti ora io penso che sinceramente la disputa filologica è poco interessante perché è del tutto evidente che siamo due facce di una stessa medaglia essere intelligenti significa essere in grado il guardare quella profondità del nemico dell'oggetto che uno vuole conoscere capendo quel fatto quel nemico come un qualcosa che è prodotto da una rete di relazioni che possono essere relazioni storiche relazioni concrete effettive effettuali e quindi comprendere il nemico o il o l'oggetto da conoscere come un qualcosa che non è dato immediatamente ma come un qualcosa che è già da sempre prodotto ma prodotto da cosa prodotto da forze intenzioni desideri moventi assolutamente umani cioè il punto fondamentale da questo punto di vista è che la conoscenza l'intelligenza e vengo diciamo alla parte propositiva di quello che ho scritto nel mio articolo cioè non è che noi dobbiamo semplicemente dimenticarci dell'intelligenza artificiale far finta che non esiste dire che non è in grado di funzionare ma dobbiamo ricordarci come dicevo prima che non è tutto e che cos'è quel di più che la conoscenza umana può mettere in campo da questo punto di vista beh è appunto questa intelligenza intesa come intusso interleggere capacità di guardare dentro sprofondare letteralmente nella profondità della cosa cogliere la rete di relazione inter che l'ha prodotta per renderla quello che è nella consapevolezza che essa è sempre prodotta dalla prassi di qualcuno e io qui diciamo per darvi un'idea di quello che ho io in mente quando parlo di questo tipo di conoscenza che deve essere sempre al contempo intus e interleggere ho diciamo così selezionato due frasi abbastanza importanti di due autori fondamentali secondo me è quando Hegel nella scienza della logica ci dice che la cosa è l'anche Hegel ci sta dicendo che non c'è la singola cosa la cosa è nella misura in cui è anche in relazione a qualcos'altro sempre costantemente in relazione a qualcos'altro interleggere conoscere la cosa ovvero capire effettivamente l'essenza di quella cosa nell'essico hegeliano non significa darne una definizione significa capire che una definizione è impossibile perché è in relazione con tutto il resto la cosa è l'anche questo è quello che dovrebbe fare anche l'analista di intelligence e poi la frase di Adorno che è tratta dal 46esimo aforisma di minima moralia secondo me è proprio emblematico di quello che dovrebbe essere il lavoro della spia dell'analista di intelligence la conoscenza veramente allargante cioè quella che permette di capire è quella che induggia presso il singolo fenomeno fenomeno quindi intusleggere finché sotto l'insistenza è proprio una testardaggine un altro passo dice Adorno sotto l'insistenza il suo isolamento si spezza e quindi una volta che io sprofondo dentro ciò che voglio conoscere sia esso una cosa una collettività ebbè io la scopro non più come un qualcosa di dato ma come un qualcosa di prodotto perché in questo senso e questo forse diciamo così è il presuppone il mio saggio ho sentito la metafisica dell'intelligence ma metafisica è una parola di cui Hegel scriveva che ormai si scappa davanti alla quale si scappa come davanti a un appestato ma insomma io intendo una cosa semplice per metafisica cioè la comprensione che la realtà non è un qualcosa che è data immediatamente ma che il prodotto appunto di quello che lui chiama il lavoro di tutti e di ciascuno ma chi sono questi tutti e ciascuno sono diversi io diversi esseri umani persone fondamentalmente ma e cito qui il grande interprete di Hegel che è Kojeb appunto è l'interazione tra diversi io ognuno dei quali è però l'io di un desiderio quindi tutto nel mondo è prodotto reca in sé la traccia dell'agire umano ma di un agire umano questo vale soprattutto per le dinamiche geopolitiche è del tutto evidente ma è un agire umano che non è un agire per forza razionale conforme allo scopo logico ma è spesso un agire totalmente irrazionale direi incomputabile cioè da questo punto di vista quindi l'intelligence deve affiancarsi a un'analisi umanistica dei conflitti di potere in questo da questo punto di vista l'intelligenza artificiale può avere dei problemi perché per dirla tecnicamente come succede capita che in determinate situazioni in cui per esempio deve essere pulito il set di dati qualcosa che è difficilmente computabile possa essere escluso e considerato come rumore qualche contraddizione qualche cosa che apparentemente è di troppo che invece sarebbe fondamentale per la risoluzione del problema perché apro una piccola parentesi tenete anche presente che le intelligenze artificiali devono possono lavorare soltanto con un numero finito di dati e quindi deve essere fatta una scelta su quali su quali dati inserire nel dataset che allena un particolare algoritmo su cui si allena un particolare algoritmo ma chi la fa questa scelta? E la fa sempre l'essere umano non c'è un algoritmo che può a sua volta farlo perché sennò si cadrebbe in un regresso ad infinito certo noi abbiamo detto all'inizio che però l'intelligence nasce con questa idea un po' come dire positivista della conoscenza non è sempre stato così sono esistiti qui ho portato due libri come esempio che raccontano bene cioè all'interno di questa immagine positivista della conoscenza questa dimensione dell'intus e dell'interleggere è presente il singolo analista può lavorare in questa maniera qui il romanzo di Graham Greene il fattore umano è penso parte del titolo bellissimo ma è da questo punto di vista evidente lo racconta esplicitamente in maniera chiarissima non vi spoiler la trama ma insomma è proprio l'analisi di quanto contano le dinamiche umane ma anche relazionali mogli figli all'interno della vita dell'agente segreto e poi quest'altro libro del famosissimo Peter Hopkirk il libro però è meno famoso del grande gioco che è il suo libro fondamentale dove racconta questa incredibile storia di spie a oriente di Costantinopoli dove l'elemento umano è veramente la fada padrone e comunque è ambientato nella seconda metà dell'ottocento quindi in un'epoca in cui già quel modo di pensare si era diciamo fatto sistematico ciò però non significa che questo modo di ragionare umanistico basato sull'intus e sull'interleggere non potesse essere utilizzato ma oggi cioè cosa sta cambiando oggi oggi secondo me un cambiamento abbastanza radicale che avviene è dettato dal fatto che anche se diciamo così gli algoritmi sono decisamente più potenti rispetto a quelli che si potevano usare in passato le previsioni sono molto più accurate e tutte gli algoritmi soprattutto di machine learning che vengono utilizzati per fare predizioni predizioni algoritmiche su questioni di intelligence sono fondamentalmente algoritmi non spiegabili cioè questa è l'ideologia di fondo cioè che tutte le informazioni passate presenti e future potranno essere ricavate da un singolo algoritmo ma questo in linea di massima non impedisce l'esercizio di quell'intus o di quell'interleggere il problema è quando questi algoritmi non sono in grado di spiegare come vanno da A a B cioè in questo momento gli Stati Uniti in particolare la DARPA sta investendo moltissimo per sviluppare algoritmi in grado di dire ok io ti ho fatto questa previsione e te l'ho fatta per questo questo e questo ma questo è un problema che si chiama problema della explainability della spiegabilità direi è un problema serio cioè noi non siamo in grado di capire per quale motivo un algoritmo genera arriva un determinato risultato addirittura alcuni autori hanno parlato di un'incommensurabilità tra ragionamento umano e ragionamento algoritmico questo è un problema evidente perché il famoso human in the loop di cui ci si riempie tanto la bocca beh in questa maniera verrebbe messo segliamente viene già messo segliamente in difficoltà e quindi diciamo per concludere davanti a questi problemi dettagli dell'intelligenza artificiale a questa definizione che ho cercato di dare dell'intelligenza umana cerchiamo di capire come deve come dovrebbe non sono io a doverlo dire ma come secondo me dovrebbe riorganizzarsi il rapporto tra intelligenza e geopolitica Federico ha posto una distinzione fondamentale che è quella tra intelligence tattica e intelligence strategica ora l'intelligence sia essa basata su una raccolta di informazioni che viene fatta a mano o su sofisticati sistemi di machine learning non ci interessa deve avere sempre per essere davvero strategica sottesea al suo interno una dimensione geopolitica un indirizzo un chiaro indirizzo geopolitico perché è soltanto attraverso questo questo indirizzo ovvero sulla base di un'analisi umanistica e dialettica dei confronti di potere che è possibile per l'intelligence veramente capire quali sono le informazioni necessarie quali sono quelle inutili capire un'informazione che apparentemente può sembrare marginale o quasi un unicum che però invece può essere rivelatore può essere può svelare può essere chiave per risolvere il problema in questione e da questo punto di vista il rapporto che tra queste quattro discipline filosofia storia geopolitica intelligence penso che sia stato messo bene in luce da Kissinger che nasce diciamo così filosofo nel 54 si laurea con una tesi su Kant e l'idea è proprio questa cioè il rapporto tra la geopolitica e l'intelligence e la filosofia e la storia storia intesa in senso molto filosofico cioè la storia è quella profondità che produce una determinata circostanza è l'intus dentro cui guardare la storia è veramente si vede che è un avido lettore di idealismo tedesco Kissinger non a caso Hegel chiama erinnerung che poi vuol dire memoria il processo di inabissamento nella profondità della cosa e Kissinger questo lo sa molto bene perché se c'è una separazione tra l'intelligence da una parte che diciamo diventa intelligence artificiale e filosofia storia e geopolitica nel senso di un'analisi umanistica e dialettica dei conflitti di potere il rischio è esattamente quello che dice Federico cioè una priorità riassumendo quello che diceva lui una priorità del modello sul fatto da analizzare cioè io parto dal mio modello dalla mia visione lo applico così indiscriminatamente ai diversi fenomeni e rischio di produrre risultati magari anche molto precisi ma che rischiano di essere totalmente inutili o dannosi allora da questo punto di vista penso che la filosofia la geopolitica la storia l'intelligence debbano collaborare sulla base di questa considerazione che scrive Kissinger in conclusione della sua tesi di laurea aveva vent'anni e dice ora è difficile ragazzi allora il significato non è altro che l'emanazione di un contesto metafisico quindi il dato non è semplicemente l'informazione è semplicemente dato più significato già il significato è un qualcosa di più complesso ci sta dicendo Kissinger è l'emanazione di un contesto metafisico in un certo senso ogni uomo si crea la sua propria immagine del mondo anche per questo dunque la storia è inseparabile dalla metafisica e implica una profonda consapevolezza dei misteri e delle possibilità proprie non solo della natura ma dell'umanità in quanto tale esiste un livello di significato ulteriore ed è reso evidente questo è il passaggio fondamentale perché a comuna Kissinger ha tutta una serie di studi che in questa fase stanno tornando in america forse di qualcuno che si è reso conto di aver sbagliato in passato penso per esempio al testo recentemente uscito sull'importanza del pensiero tragico nell'analisi geopolitica infatti dice pensatori come Dostoevsky Schweitzer Romero Shakespeare i misteri più profondi della vita non possono essere approcciati analiticamente essi necessitano dello sguardo del poeta in grado di cogliere l'unità della vita più grande di qualsiasi per quanto minuziosa analisi delle sue manifestazioni fondamentalmente l'idea di Kissinger è che la pratica di intelligence la pratica di analisi geopolitica non può essere slegata da questa conoscenza storico-filosofica perché e qui diciamo parafraso Hegel ma cambiando i termini se la geopolitica e l'intelligence fossero mero formalismo semplicemente si esaurirebbero in mezz'ora grazie